Ciao a tutti e benvenuti nell'analisi dell'Ultra Space Time 21 contenenti Cell Prima Forma e Super Saiyan Trunks. Iniziamo proprio da quest'ultimo, Mili Type, colore rosso, questo colore discusso fin dalla sua preview perché magari la gente si aspettava una batch focalizzata sul buffare il future. Così non è stato perché Trunks buffa Vegeta Family e Hybrid. Il colore magari poteva essere un giallo o un blu che erano più utili sia per il meta in generale sia magari per i vari team in cui si poteva inserire, però alla fine il rosso per i Brita Vegeta Family è accettabile, non è così male. Andiamo a vedere le statistiche. Statistiche abbastanza buone, non essendo un Evo, ha strike alte, difese buone, blast attack sotto tono, però non ci interessa perché i suoi team sono incentrati sulle strike, sull'essere melee. Strike normalissime, anche le blast, la special move infligge un debuff al nemico del 20% sulle strike damage ricevuti in più, quindi venderà un danno maggiore sulle strike che tirerete per 15 timer counts. La green card è innanzitutto a lungo raggio, quindi ci potrete counterare le blast nemiche per esempio. Vi recupera il ki di 50, il banishing gauge del 60% per le prime due volte, infligge agli alleati e ai nemici una sub counts di più 3, quindi gli switch costeranno 3 in più. È combabile con tutto, qua non parla di Racing Rush, però ho notato anche che nelle scorse analisi, per esempio quella di Braille C.I. e di Vegito Evo, diceva la stessa cosa, non diceva che era combabile con il Racing Rush sulla carta, però poi nel gameplay si poteva fare, quindi alla fine poi questo è da testare direttamente in game. La ultimate, allora innanzitutto fa massive impact damage e all'attivazione applicherà questi effetti, un 50% di ultimate damage buffata per 3 timer counts e annullerà il colore a sfavore, sempre per 3 timer counts, quindi quando tirate questa ultimate sarà neutra contro tutti e ovviamente a vantaggio contro i gialli, quindi se vi metteranno un blu non avete problemi perché appunto avrete il colore a sfavore annullato. Main ability, si spawna la ultimate che abbiamo visto prima, vi dà un buff del 100% sul sustained damage cut, questo in pratica vi taglia tutte le cover e il damage reduction del 100%, quindi è come se facesse danno puro, per 10 timer counts. E infine ha un card draw speed buffato di 1 per 30 timer counts. Ci mette 25 timer counts per lanciarla, che sembrano tanti, però ha un so perché che vedremo appunto con la seconda unit. Z ability molto forte, buffa del 28%, già 3 stelle, hybrid e Vegeta family strike attack. A 6 stelle, 30% strike attack e defense, entrambi tag. Questo è molto forte perché serviva una z tab solida per entrambi i team che non le hanno in generale e serve anche appunto con la difesa, essendo entrambi i team molto squishy. Infatti quindi se volete un team molto solido ragazzi, fatevelo 6 stelle questo trunks, magari con le multi z power. Prima unic, allora i seguenti effetti occorrono quando questo personaggio entra nel campo di battaglia. Un 30% di damage inflicted che non può essere staccato, un 20% di strike damage inflicted che non può essere staccato, un damage reduction del 20% per 15 timer counts e infligge a tutti i nemici un 40% di health restoration downgrade per 30 timer counts. Questa unic è fatta appunto per counterare tra virgolette regeneration perché va proprio a tagliare in più in generale abbiamo un 50% di strike buffato in più. Il damage reduction è sempre buono essendo alla fine un personaggio non troppo tankiness quindi questo lo aiuta abbastanza. Seconda unic, allora un 30% di buff in più allo strike damage contro regeneration e non può essere cancellato quindi siamo già ad un 80% in totale contro la rage applica i seguenti effetti in base al numero di counts che sono passati da quando questo personaggio è in campo. 3 counts, meno 5 a tutte le carte, 8 counts, un 30% di strike damage inflicted e 12 counts un altro 20% di damage inflicted in generale. Se switcherete ovviamente i buff si resetteranno. Allora, questo trunk serve un po' di setup quindi per avere tutti i buff e cominciare a fare danni molto alti. Comunque se andiamo a vedere le percentuali ci accorgiamo che sono percentuali molto buone. Innanzitutto qua si prende un 50% appena entra subito in generale che non scadono con i counts perché sono fisse. In più abbiamo un 30% contro il regeneration quindi abbiamo un 50% overall contro tutti e un 80% contro il regeneration. In più, come si adappare questo trunks? Allora, o fate una combo magari con il teclostep quindi riuscire a prendere abbastanza tempo oppure vi aiutate anche con la green. Vi ricordo che questa green oltre a farvi recuperare il ki e a startare una combo vi dà il 60% di vanishing gauge per le prime due volte. Questo serve proprio appunto per riprendersi la barretta e tenerli in campo il più possibile. Dopo 12 camps ragazzi questo personaggio si prende un 100% di damage contro tutti e un 130% contro regeneration. Considerando che in vegeta family e in hybrid questo trunks ha anche il trunks quello purevo dietro che gli buffa un altro 35% lo switch. Quindi cominciate a capire che farà molti danni visto che ha anche strike buone. Molto solido questo personaggio mi piace in tutto sia per il kit generale sia perché è un anti meta visto che va accanto al regeneration. Sicuramente da solo non riporterà vegeta family o hybrid team competitivi però butta delle buone basi per il futuro e sicuramente magari darà un po' fastidio regeneration anche se ovviamente ragazzi non finirà il dominio solo per l'uscita di questo personaggio. Servirà ancora altro ma questo è un buon inizio in generale. Parliamo del secondo personaggio ora ovvero se è la prima forma sinceramente non mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto di più trunks di lui ma andiamo a vedere. Allora rage type stats abbastanza sotto tono sinceramente. Ha la vita che ok le blast anche sono buone però a difese veramente troppo basse. Le strike sono veramente pessime le blast sono sotto la media e considerando che questo personaggio si deve setappare come trunks non è proprio la cosa migliore ma andiamo a vederlo. Porta una strike e una blast. La kamehameha infligge un 20% di blast damage ricevuti in più per 15 timer counts. Le green card riduce il ki del nemico di 50, infligge al nemico un downgrade del 50% di ki recovery per 5 timer counts, si recupera la vita del 10% e il ki di 50. È combabile con la special e alla blast armor quindi passa attraverso le blast ed è una green fisica. Allora non ho capito perché non farla combare con il resto delle cards. Visto che anche lui appunto come trunks si dovrà setappare, fagli iniziare una combo così almeno tiri la green, mi recupero il ki, la vita e starto una combo. No solo la special. Boh sinceramente non ho capito questa scelta comunque la green in generale è buona come effetti che ha. Main ability. Allora si spana una blast art come prossima carta, un meno 15 al costo delle proprie blast per 30 timer counts, un 50% di blast damage inflitti in più per 30 timer counts e un 100% al venishing gauge recovery per 10 timer counts. Si può tirare praticamente subito perché bastano che siano passati 5 counts dall'inizio della partita. Carina, dopo vedremo anche appunto come potrà essere utile con il resto del kit. Z-Ability. Credo che sia la prima Z-Ability con questa meccanica perché buffa del 24% al tag future le blast e del 24% agli android le strike. Quindi un tag diverso e un buff diverso. Carino, niente di che sinceramente. Più che altro per gli android che alla fine sono abituati ad avere doppio Z-Ability anche a tre stelle. Questa invece andrà a buffare doppio solo lui e il cell giallo. Gli altri riceveranno solo le strike. Per il future le blast, non lo so, sinceramente sono tutti melee e defense type tranne il Gohan Green ma è dello stesso colore di questo cell o il black giallo Zinkai ma Zinkai 1 è pessimo quindi non so quanto lo giocherete. Boh, niente di che sinceramente. È una Z-Ability carina perché hanno introdotto diciamo questa doppia doppio buff a doppio tag però diverso da di loro. Però nulla di che preferiamo una doppia Z-Ability magari entrambi come faceva Trunks. A se stelle identico ma come vediamo aumenta la percentuale al 30%. Prima Unic si recupera la vita gradualmente per 60 Timer Counts come Cell o Genieva Red per esempio e quando i nemici andranno a switchare, quando Cell sarà in campo, Cell si prenderà questi buff ovvero 20% di damage inflict in più per 15 Timer Counts e un recupero ki di 30. Ok, carina, buona la vita che lo fa un attimo ragione di più il game, però questa cosa che deve essere diciamo condizionato dall'avversario per prendere i buff non è che mi piace troppo, è un po' una Unic alla Caulifla Pur, niente di assurdo. Seconda Unic, i seguenti effetti, questo è come Trunks, identico, più sta in campo, più passano i counts e prendi i buff. Dopo 3 counts un 50% di damage inflicted, molto buono perché non aveva Cell Fial, se appunto la versione non switchava. Dopo 6 counts si spawna una green card e questo lo fa per 3 volte e dopo 12 counts infligge a nemici un downgrade del 50% sul danno ricevuto per 20 Timer Counts. Ovviamente anche qui se switch il personaggio gli effetti si resettano. Allora, cosa è che non mi convince molto di questo Cell? Innanzitutto secondo me non ha proprio il kit per reggere i 12 counts. Sì, ok, dopo una combo magari è facile arrivare a 10-11 counts e prendere il buff, però lui non ha né per esempio un lock per non farlo tankare da un pur, né le statistiche così alte per reggere letteralmente quei 12 counts se per esempio deve ancora andare in combo e non ha nemmeno un colore appunto a sfavore come a Trunks sulla Ultimate. Non lo so, non mi convince molto. Sì, ha danni buoni perché full setup è un 100% e se andiamo a tirare la main per 30 Timer Counts avremo un 150% per attenzione sulle blast. Sulle strike avremo solo un 50% e non ha strike altissime distanza a 181k che alla fine sono nella media. Non lo so, secondo me questo Cell è un po' diciamo non sinergizza bene con il proprio kit, però sicuramente al 100% ragazzi andrà a prendere il posto di Super 17 come grind, quindi sarà il main spot nei droids. Super 17 e 14 ormai sono troppo datati e veramente sono quasi ingiocabili. Lui, ok, essendo grind non è che se la caverà molto bene in questo meta visto che pullano di Purr ed è il meta di 21, però sicuramente sarà più giocabile di loro due. Non mi convince molto però potrà fare il suo, sicuramente mi piace molto di più Trunks. Allora, riassumendo, Trunks va a buffare Vegeta Family e Hybrid molto solito, sia come personaggio sia come Z-Ability e come impatto che ha nel meta visto che buffa Regeneration. i team non diventeranno competitivi, nulla di assurdo, però saranno sicuramente giocabili e andranno un po' magari a infastidire i Regeneration, anche se il suo dominio ovviamente non si interromperà con questa batch. Cell, sicuramente buono spot per gli android, gli dà l'ultimo colore giocabile, ovvero il green. Al future non ce lo vedo molto performante, sinceramente preferisco mettere un Vegeta alle F magari. Poi ovviamente ragazzi sono da provare nel gameplay e vedere come performano, però io vi sto dicendo dal kit e da quello che vedo attualmente. Puller o no su questa batch? Allora, come l'Ultra Space Time in generale, io vi consiglio sempre di fare prima le daily, poi pullare i ticket e infine se proprio non trovate nessuno e vi serve quel personaggio perché vi piace o è particolarmente forte eccetera, allora ci pullate verso la fila ma non andate troppo deep in questa specifica batch. Fateci una, due massimo tre multi se avete tante cc. Considerando che tra poco c'è l'anniversario, prima di quello sicuramente ci sarà un'altra step up, un'altra batch grossa con personaggi forti, quindi tenete e non pullate tanto, fidatevi. Ovviamente io punterei più su Trunks che Cell, poi in base anche ai vostri team, chi avete, chi non avete eccetera, però tra i due il più forte è Trunks, questo è sicuro. Spero che abbia spiegato bene entrambi i kit dei due personaggi nuovi, io vi saluto e ci vediamo con il prossimo video sperando di trovare uno dei due e di portare uno showcase. risa.